io questo video lo faccio per voi perché sono stufo di vedere gente che non sapendo che cazzo guardare di film intendo perché tratto principalmente di film e non di serie tv non sapendo cosa guardare va in cerca degli originali netflix o degli originali amazon prime ma io dico con tutto il ben di dio che queste piattaforme offrono perché dovete andare a mettervi nel fango con questo tipo di film tipo mi è capitato di vedere the adam project ecco allora io non dico che sia un film proprio da prendere e bruciare dico solamente che non mi è piaciuto mi ha anzi un po' anche annoiato si sa che i viaggi nel tempo sono difficili da trattare tante cose magari possono anche non tornare se non stai attento anche al minimo dettaglio e quindi per me è bocciato anche le scene d'azione non è che siano tutto sto però vabbè insomma volevo dire che ho fatto ho preparato anzi una serie di video quindi una nuova rubrica che in cui andrò a consigliarvi un film che c'è su netflix un film su prime e un film su disney plus quindi chi ha uno di questi tre abbonamenti può vedere un gran bel film secondo il mio personale personalissimo parere quindi questi sono film che io ho visto io ho apprezzato tantissimo e quindi voglio allargare ok i tuoi orizzonti non devi fermarti alla serie tv del cazzo o al film al primo che ti passa davanti scegli il film con un po' di criterio ostia perché cioè sono lì e almeno usufruisci della piattaforma nel migliore dei modi cazzo quindi non sto dicendo che i film che dirò sono universali che andranno bene per tutti ma se hai un po' di cervello riconoscerai che sono dei gran film quindi partiamo subito con il primo episodio di questa nuova serie di video questa serie di video diventerà un appuntamento settimanale nel momento in cui questo primo video e magari il secondo e il terzo avranno un buon seguito un buon numero di like quindi se vi piace l'idea di questi consigli settimanali sulle piattaforme streaming basta che me lo fate sapere e io provvederò apro con il film Pacific Rim che lo trovate su Netflix e è un film che parla praticamente di mostri giganti che emergono dal fondale del Pacifico dell'oceano Pacifico mettono in pericolo la popolazione mondiale ok e cosa hanno per difendersi gli umani hanno creato dei mega robotoni alti tipo 80 metri che si comandano neurologicamente quindi loro entrano in questi robot riescono a controllarci agganciano in testa nelle mani tutte le tecnologie ok e iniziano a comandare questi robot e fanno a cazzotti con i mostri giganti detta così sembra un po' una cazzata vero? ok però è molto più profondo di quello che sembra perché praticamente questi mostri, i Kaichu si chiamano si evolvono ok e a un certo punto sono talmente forti che neanche i robot riescono a distruggerli e quindi diciamo che diventano un po' obsoleti queste macchine giganti al che rimangono proprio un pugno un pugno di robot a disposizione che possono essere usati e quindi starà ai nostri eroi salvare il mondo ecco questa è principalmente la storia è vero che sembra una stronzata ma intanto a chi piacciono i combattimenti e i mostroni questo è un film assolutamente che non devono perdersi cioè se non l'hai visto magari sei rimasto a Godzilla e ti è piaciuto Godzilla? ti è piaciuto King Kong? guarda sto film perché è tipo 30 volte meglio e oltre ai combattimenti che sono fantastici oltre alle CGI che regge veramente bene è un film di Guglielmo del Toro quindi del Toro non fa brutti film anzi vi consiglio di guardarvi anche tutti gli altri suoi film su Disney Plus c'è anche la fiera delle illusioni che è veramente atomico come film secondo me e sempre di Guglielmo del Toro detto questo la trama apparentemente semplice nasconde in realtà degli approfondimenti di personaggi che sono veramente interessanti infatti dopo non vi farò spoiler comunque sappiate che questo è uno dei film che c'è su Netflix che secondo me vale la pena di vedere passiamo invece ad Amazon Prime Video che ho scelto il film penso il mio preferito in assoluto ovvero Old Boy di Parchan Walker è un film, un revenge movie quindi parla di vendetta qual è la trama? c'è questo tizio, il nostro protagonista che viene chiuso, rinchiuso per tipo 15 anni una roba del genere senza, non vede mai la luce del sole e a un certo punto lo liberano e lui ovviamente vuole intanto sapere chi è stato a rinchiuderlo seconda cosa vuole proprio fargliela pagare e quindi si metterà in moto per cercare questo cattivone in realtà sembra anche questa una cazzata dirlo così non so perché tutte le trame che dico sembrano stupidaggini ma questo è veramente uno di quei film che tu lo guardi una volta e non te lo scordi più veramente ci sono dei colpi di scena è talmente tanto emotivo talmente tanto coinvolgente e talmente tanto fatto bene cioè è inutile negarlo una colonna sonora della madonna che non si può veramente non aver visto sto film penso sia come ho detto il migliore di chi io abbia mai visto ecco e ne ho visti parecchi di film quindi potete fidarvi dai cazzo fidatevi passiamo invece a Disney Plus anche qui una bella perla su Disney Plus ho scelto un film di un regista che io adoro ovvero Shyamalan e che film sono andato a scegliere The Village è un film molto bello molto molto bello che parla sostanzialmente siamo in un villaggio del XIX secolo e c'è questa Evie che è la protagonista femminile è cieca ok non ci vede è tipo la promessa sposa ok di ha una relazione con un certo Lucius ma in questo villaggio del XIX secolo c'è un ragazzo ritardato un ragazzo problematico ok che è innamorato di Evie e a un certo punto gli salta il matto e a coltella praticamente ferisce quasi a morte questo Lucius allora la nostra Evie è costretta ad abbandonare quindi a uscire dal villaggio addentrarsi nel bosco in cerca di cure e di medicine quello che non ho detto è che in questo bosco che circonda il villaggio si nascondono delle creature mostruose e soprattutto molto ma molto pericolose di cui tutti nel villaggio sono a conoscenza infatti nessuno osa avvarcare la soglia del bosco ecco la nostra Beniamina sarà costretta appunto ad addentrarsi nella foresta la cosa bella del film è che anche qui ritroviamo un colpo di scena più di uno in realtà della Madonna tutta la sfera quella più emotiva è veramente trattata da Dio e i personaggi sono bellissimi tutti quanti il pazzo il pazzo sgravato che accoltella quell'altro è interpretato da Joaquin Phoenix quindi cioè devo dirvi devo dirvi altro cazzo andate a vedere sto film perché Shyamalan secondo me è uno di quei registi che dovete assolutamente recuperare tutta la filmografia che ha fatto su Disney Plus ce n'è una buona parte mi pare di aver visto e quindi ascoltatemi secondo me non devo convincervi ancora dovete solo ascoltare le mie parole e non ne rimarrete delusi se avete già visto questi film fatemelo sapere se ho detto delle stronzate non ditemelo tenetevele per voi perché non me ne frega un cazzo scherzo ovviamente scrivetemi quello che volete e ci vediamo al prossimo episodio di questa serie che cercherà di essere settimanale se Dio vuole e se viene supportata che